Ciao ragazzi, il canale non è morto, lo so che non pubblico da tanto tempo, è quasi un mesetto che non pubblico, ero in Giappone, a Tokyo, come già sapete, sono tornato e sono un po' crollato a livello di forze, quindi ho faticato un po' a riprendere con la routine del montaggio. Iniziamo una carrellata di video che verranno tutti incentrati su Tokyo, il gaming, l'animazione, insomma cose da Giappone, e questo qua è il primo, un video riassunto su quello che ho visto e quello che c'era al Tokyo Game Show. Successivamente pubblicherò altri video per raccontarvi le mie esperienze di ritorno a Tokyo e anche altri video interessanti sui videogiochi, sempre fatti lì a Tokyo. Gianè! Grazie a tutti i ne ring universityi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.